Siamo alla scuola del villaggio di Meme, un bellissimo villaggio e siamo pronti per andare a consegnare dolci, biscotti, io e Milvia pronti. Milvia vi sta filmando, ciao! Ciao! Sì 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.